Mi hanno insegnato che se si inseguono i sogni, i limiti non esistono. In questo periodo storico così buio, insieme alla galleria e tra studio Tommasi, abbiamo scelto di accendere un faro. Una mia opera rappresentante un abbraccio moltiplicato per 7000 volte, una superficie di 1200 metri quadri, come un tappeto su cui camminare, riflettendo su ciò che ci è stato tolto. Questa pandemia, in fondo, ci ha insegnato che le cose più importanti sono quelle più semplici, come il calore umano, come tutti gli abbracci che non abbiamo dato, cose che a volte tendiamo a dare più spontaneo. Che quest'opera possa oggi rendere indelebili dentro di noi le cose preziose che la vita ci ha buonato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.